buonasera in questa puntata di qualla zampa parliamo di cavalli il momento è favorevole per il pascolamento dei cavalli che in questa stagione possono nutrirsi dall'alimento principale più naturale di cui possono disporre che è proprio l'erba chi ha la possibilità di recintare dei prati o delle parti di montagna e non esiti a far pascolare i cavalli questo fa bene sicuramente all'intestino dei cavalli ma anche al sistema respiratorio perché durante l'inverno nelle stalle o nei box e soprattutto con l'alimentazione secca come il fieno che può contenere polveri o muffe questo può causare alcune patologie mentre durante l'estate abbiamo un momento come dire di riposo per tutti gli apparati sensibili del cavallo quindi il pascolo è importante che venga spostato spesso perché il cavallo non mangia sullo stesso pascolo in breve tempo questo per proprio per evitare una reinfestazione da parte dei parassiti i cosiddetti vermi intestinali è importante non lasciare il cavallo in pascoli soleggiati durante le ore centrali del giorno ma preferibilmente durante la sera e anche durante tutta la notte o il mattino successivo quindi oppure organizzate il pascolo con delle aree di ombra in modo che possa trovare il refrigerio e soprattutto sollievo da parte delle mosche e dei tafani ricordatevi che anche se il cavallo mangia erba al pascolo è importante integrare la sua alimentazione con dei sali minerali e soprattutto lasciare dell'ottima acqua fresca a disposizione in ogni momento questo proprio perché le temperature invitano proprio il cavallo a bere molto di più quindi ricordate anche di poter integrare il pascolo con una piccola parte di mangime quindi di cereali misti adatti per cavalli in rapporto sempre alla quantità di lavoro che svolge il cavallo bene per questa sera è tutto vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo appuntamento con qua la zampa arrivederci